Hanno imbarcato acqua rischiando di affondare completamente con la loro imbarcazione. Quanto accaduto ieri a cinque persone tutte della provincia di Avellino a largo di Capodorso. Sono stati tratti in salvo dalla polizia di mare in servizio con gli acquascooter in costiera malfitana. Gli agenti diretti dal vicequestore Giuseppina Sessa per evitare l'affondamento hanno condotto la barca all'unica spiaggia più vicina a quella denominata la spiaggia del cavallo morto. La barca è stata messa in sicurezza sulla spiaggia in attesa poi di essere trainata da un mezzo idoneo da Salerno e portata a terra. Avrebbe dovuto essere una tranquilla domenica in mare quella di ieri per i cinque diportisti avellinesi che però hanno rischiato di annegare quando per causa in fase di accertamento per una falla o altra origine all'improvviso hanno cominciato ad imbarcare acqua con l'improvviso allagamento della poppa. Un lavoro incessante quello delle volanti del mare di questi ultimi giorni sempre in costiera amalfitana. Anche sabato pomeriggio gli agenti della polizia di mare hanno soccorso altri cinque giovani a bordo di una barca che ha rischiato di schiantarsi contro la costa dopo aver perso l'ancora ed avendo allo stesso tempo un blocco al motore. Protagonista anche in questo caso un gruppo di cinque ragazzi della provincia di Chieti tratto in salvo dalla polizia di mare a largo di Capodorso. Inesperti sia di mare che della costiera amalfitana i giovani in difficoltà sono stati notati dalle volanti del mare che perlustravano la zona a bordo delle moto d'acqua mentre si sbracciavano energicamente e urlavano per richiamare l'attenzione e chiedere aiuto. I poliziotti sono riusciti a metterli in salvo.